Crede che serva un amore incondizionato per restare sposati 29 anni? Beh, certo, una sana vita sessuale credo che sia molto importante. Benvenuta! Buona vigilia di nozze. Il segreto con questa famiglia è rimanere ai margini, dove sei al sicuro. C'è qualcosa che vuole dirmi? Sembra un po' esagerato per un annegamento accidentale. Perché chiedi di firmare degli NDA? Come, scusa? Sono ricchi. Tanto da uccidere qualcuno e farla franca. C'è nessuno? Ti vedo, stronzetta. Fermo! Basta! Tom! Questa è vintage! Sì! Che c'è? Sono in arresto? O posso avere qualcosa da mangiare? Non sappiamo cosa passa per la testa delle persone, anche se ci sono vicine. Sono in arresto? Grazie a tutti